Il libro più difficile che abbia mai scritto. E non possiamo non partire proprio dall'opera originale, nel raccontarvi cosa sia I Tense With Us, Siamo Noi e Dire Basta, che è appunto tratto dal romanzo firmato da Colleen Hoover, una scrittrice che definire di successo sarebbe un eufemismo. Uscito nel 2016, I Tense With Us, basato in parte sulle sue pregresse e esperienze di vita, è stato infatti tradotto in oltre 20 lingue, vendendo quindi al 2019 un milione di copie, e successivamente ha avuto anche una nuova spinta dalla comunità hashtag BookTok di TikTok con un miliardo di tag, facendolo così diventare un caso sociologico più che letterario. Va da sé dunque che l'adattamento cinematografico era già previsto dal pacchetto opzionato dal regista e produttore Justin Baldoni, che nel film si è ritagliato anche il ruolo di coprotagonista. Ma su questo ci torneremo più avanti, comunque è importante rimarcare quanto l'anima del film segua una spinta multiforme, fluidificando poi per quanto possibile l'imprescindibile tema della violenza domestica. Chi non ha mai letto il libro non ha l'ansia del paragone e quindi si ritrova davanti un romance ben girato, ben costruito, ben amalgamato nelle sue emozioni semplici e dirette, e diciamo pure che ogni tanto è quel che ci vuole, in un'alternanza tra passato e presente che non perde di vista una sdolcinata melassa che pare sostituirsi ad una latente tensione drammatica pronta a prendersi la scena. Ed è un lavoro di trasposizione questo che parte ovviamente dalla protagonista, da quel nome floreale Lily Bloom, interpretata qui da Blake Livley. Alle spalle i ricordi traumatici di un padre violento e di un amore forse perduto, e davanti a sé invece un futuro che la vede a Boston, dove gestisce guarda caso un negozio di fiori. Un sogno di una vita questo suo reso favola anche dall'arrivo di Ryde Kincaid, lo stesso regista e produttore Baldoni che, diciamo, non proprio un campione di espressività. Neurochirurgo troppo bello, troppo ricco e troppo dolce. Insomma, troppo tutto, per essere vero. Tant'è che Lily a poco a poco sembra scorgere in lui la stessa rabbiosa violenza che vedeva nel padre ormai defunto. E sarà il ritorno del tenero e ammaccato Atlas Corrigan, interpretato da Brandon Sklenar, quel vecchio amore mai dimenticato che finirà per alterare definitivamente la prospettiva emotiva e sentimentale di Lily. Un fenomeno interessante, questo Itens with Us siamo noi a dire basta, anche perché a scrivere l'adattamento del film troviamo Christy Hall, che nel 2023 ha esordito alla regia con l'ottimo daddio. Un adattamento questo che per certi versi risulta forse un po' troppo cool, specie se pensiamo al filo drammatico che si srotola durante l'ultima mezz'ora. Per una durata tra l'altro abbastanza importante, quasi due ore e quindici di film. A tratti poi addirittura quasi spot per Valentino e Carhartt, con un lavoro di product placement smaccato, nonché animato da una soundtrack ad effetto che alterna brani pop e slow pop di Birdie dei Cigarettes After Sex, fino alla ballata My Tears Ricochet di Taylor Swift. Quello di Baldoni è dunque un film che, seguendo una vacua retorica avallata da frasi ad effetto, tenta di tenere stabile l'equilibrio precario che lo vorrebbe tanto un romantic movie quanto una profilazione di cosa sia la violenza domestica. E I Tense With Us effettivamente funziona nella sua declinazione romantica di amori perduti e poi ritrovati, infatti la relazione tra Lily e Atlas è la cosa migliore di tutto il film, anche per l'utilizzo degli emozionanti flashback, infarciti poi di let's motive efficaci nella loro catarsi da social quotes. Tuttavia va anche da sé che l'aspetto più controverso di Colleen Hoover prende presto il sopravvento, e se gli abusi fisici e psichici sono il centro del racconto, è proprio l'approccio alla consapevolezza di Lily a creare scompensi. Ok, ma a questo punto per essere più chiari dovremmo rivelare troppo a proposito del finale, ma è comunque giusto sottolineare quanto l'argomento nevralgico e purtroppo molto attuale rischi qui di essere in qualche modo troppo romanticizzato. Anche se poi c'è una propensione da zeramento del concetto di genere, tanto che il romanzo della Hoover è stato definito negli Stati Uniti una sorta di bugle di tutto ciò che riguarda la narrativa popolare, e in questo senso siamo anche molto d'accordo. Nel resto, infatti, è presente un'effettiva sfida alle convenzioni della narrativa rosa, a volte stimolante e anche sorprendente, ma dall'altra parte ritroviamo nel film anche i motivi delle molte critiche mosse all'autrice. Un intreccio ideologico, cinematografico e sociale strettamente soggettivo, quindi, e questo nel bene e nel male, da cui nesce alla fine un film dalla doppia anima e molto più complesso di quanto vorrebbe sembrare. Ma a conti fatti questo è davvero un merito? Boh, probabilmente. E voi invece che cosa ne pensate? Vi ha convinto i Tense With Us? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie. 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 Grazie.